la donnola nel granaio madame migella donnola fresca di malattia e fatta ancor di corpo più lungo in mingherlino in un vicin granaio un giorno penetrò per un foro che meglio diremo un forellino e qui tanto mangiò con tanta indiscrezione di lardo e ogni tenero boccone che grasse bella in breve diventò un dì verso la fine di quella settimana udito dopo il pranzo un gran rumor di là voleva fuggir ma come esclama è cosa strana non sono io forse un giorno passata per di qua com'è che il buco a un tratto divenne così stretto e dopo molti inutili giri e rigiri ovunque che la vada crede sempre d'aver sbagliato strada un topo che la vede in imbarazzo e in pena le disse ma non sai che allor non avevi ancor la pancia piena magra venisti amiche magra tornerai ciò che di te si dice anima mia a molti altri conviene ma confonder le cose non conviene per far gran pompa di filosofia fine della favola la donna nel granaio questa registrazione è di dominio pubblico